Allora, io direi di cominciare questo nostro incontro, però ovviamente per primo lascerei la parola a Don Giampiero che è vicegerente della Diogesi di Roma, nonché vescovo ausiliare e che grazie a lui, diciamo così, è alla sua spinta molto convinta che poi siamo riusciti a concretizzare questo percorso. Quindi ecco, Don Giampiero, se vuoi iniziare direttamente tu. Don Giampiero, non ti sentiamo, si è assentato un secondo. Bene, allora, mentre arriva Don Giampiero, eccolo Don Giampiero. Ecco, dicevo, se vuoi tu cominciare direttamente Don Giampiero e con il saluto, la preghiera, l'introduzione, insomma, ecco. Benissimo, allora, e allora buonasera a tutti quanti, invito tutti magari a silenziare i microfoni in modo tale da non disturbare gli interventi che vengono fatti. E allora siamo tanto contenti di poter cominciare insieme questo percorso sul tema della tratta e di farlo insieme con il professor Carcheddi per avere la possibilità di conoscere, approfondire, riflettere sul fenomeno della tratta di esseri umani. Noi ci mettiamo già da subito in un atteggiamento che è quello di chiedere a Dio luce per poter comprendere come lottare insieme contro questo fenomeno, come sensibilizzare il più possibile la nostra società rispetto a questa situazione che è definita una moderna schiavitù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al termine del nostro incontro faremo la preghiera invece che è stata scritta negli orientamenti pastorali del di Castero, dello sviluppo umano integrale, proprio per il tema della tratta. Una preghiera composta per l'occasione, ma la utilizzeremo al termine dell'incontro. Bene, allora, prima di lasciare la parola a Francesco, che ringraziamo per essere con noi, mi preme dire due parole introduttive su questo percorso che avrete visto nel volantino. Quindi è il frutto di un percorso di elaborazione del coordinamento ecclesiale della tratta, di cui si è formato così ormai sono due anni e mezzo, che ha iniziato a vedersi e lentamente si è arrivato a questo tipo di proposta, perché tutti quanti ci siamo posti il problema di come portare alla sensibilizzazione, alla consapevolezza, innanzitutto delle comunità ecclesiali, questo fenomeno della tratta. Perché spesso non si ha conoscenza, si sottovaluta il fenomeno, non si conosce la portata e la gravità dei tratti che si consumano spesso sulle nostre strade, con la complicità attiva o proprio passiva a volte nostra, anche delle comunità ecclesiali, e quindi abbiamo immaginato questo percorso, come avete visto, sono otto incontri, quattro sul fenomeno del che cos'è, com'è, però alternato con un incontro di formazione, di consapevolezza, diciamo così, di riflessione e qualche incontro anche con taglio biblico pastorale, proprio perché il sogno è proprio quello di poter arrivare, di avere tante unità di strada che scendono sulla strada ad incontrare le ragazze, ma anche piccoli spazi, luoghi dove poter poi accogliere queste persone. E dopo i primi quattro incontri sul fenomeno abbiamo pensato ad altri quattro sugli strumenti, cioè cosa possiamo fare, come possiamo intervenire nel nostro piccolo ciascuno. E quindi oggi cominciamo di fatti con il primo sul fenomeno. Abbiamo chiesto al professor Francesco Carchedi di aiutarci nella lettura del fenomeno, della tratta, dandoci un po' di numeri rispetto al territorio nazionale, ma poi scendere anche in particolare sulla realtà più nostra, diciamo, del Lazio e anche la realtà romana. E quindi lascio subito la parola a Francesco che dovrebbe, era collegato poco fa, eccomi qua, eccomi qua. Sono qui, mi vedete, mi sentite? Sì. Allora, grazie, grazie mille davvero per questo invito, anche se con molti di voi ci conosciamo da tantissimo, con Pino, con Sorrita, in sostanza siamo cresciuti insieme gli ultimi 25 anni. Quanto è il periodo, diciamo, da cui il fenomeno comincia a delinearsi nel nostro paese e anche negli altri paesi europei. È un fenomeno che c'era anche in precedenza, ovviamente, ma dalla ricostruzione storica che nel frattempo è stata fatta, possiamo dire che dagli anni 50 fino agli anni 80, fine degli anni 80, il fenomeno della tratta si era molto affievolito, nel senso che non era appunto così evidente socialmente e quando un fenomeno sociale non è evidente appunto alla maggioranza delle persone, degli osservatori, degli studiosi, dei servizi sociali, dei politici più attenti e sensibili, quindi è qualcosa che non entra, diciamo, nell'agenda istituzionale. Quando entra nell'agenda istituzionale significa che siamo davanti a un fenomeno evidente. Il concetto di evidenza sociale è molto importante per capire come un fenomeno che desta attenzione possa diventare oggetto poi di una riflessione, di una mobilitazione, di una razionalizzazione delle modalità di intervento che si possono attuare per contrastarlo nei suoi aspetti, diciamo, più cruenti, se questi aspetti più cruenti sono, come dire, effetto di gruppi organizzati che promuovono quel fenomeno e interventi di protezione se da quel fenomeno scaturiscono delle vittime. Questo è valido sia per la tratta degli esseri umani ma anche, ad esempio, per la tossicodipendenza, ad esempio per il lavoro sfruttato, come possiamo poi più in là accennare, ovvero i fenomeni sociali hanno quasi sempre un sottofondo criminale che diventa una sorta di motore per il suo sviluppo. Perché? Perché più questo fenomeno, come dire, cresce e più gli effetti, diciamo, economici di beneficio per questi gruppi che lo animano diventano gospigui. Quindi si crea un meccanismo, una spirale per cui questi gruppi delinquenziali, criminali, anche di stampo mafioso, attivano per loro interesse un fenomeno, continuano a starci dentro. Perché? Perché più si estende e più aumentano i rispettivi introiti. Qual è la conseguenza dell'aumento degli introiti di questi gruppi criminali? è l'estendersi quantitativo e qualitativo della sottomissione delle vittime che entrano in questo gioco perverso. Quindi questo fenomeno della tratta parimenti a quello, ad esempio, della tossicodipendenza che appunto continua a esserci ma in una maniera meno evidente per cui c'è anche una meno attenzione istituzionale seppur il fenomeno, gli esperti ci dicono che è molto presente, molto dirompente, con la tratta è avvenuto più o meno lo stesso modello di sviluppo. Tant'è che nella seconda metà degli anni 90 erano pochissimi i gruppi che si occupavano di questo aspetto e io devo citare soprattutto i gruppi cristiani, cattolici, ma anche i gruppi laici quello che poi nel tempo è diventato un nome usuale definirlo terzo settore ma questo terzo settore e i gruppi ecclesiali e i gruppi appunto cristiani sono stati quelli che per primi hanno, come dire, preso coscienza di questo nuovo fenomeno e hanno iniziato a intervenirci sopra. Questo fatto è molto importante perché dall'intervento, dall'intervenirci sopra, si divaricano col tempo delle piccole specializzazioni ovvero c'è chi comincia a studiarlo questo fenomeno, c'è chi comincia a prestare soccorso a queste persone, c'è chi comincia per analogia alle esperienze precedenti, ad esempio ripeto la tossiodipendenza propone le unità di strada per avvicinare, per contattare queste ragazze in strada, una volta avvicinate, una volta contattate, si chiede se vogliono continuare un percorso di protezione, si aprono le prime case famiglia, all'epoca si chiamavano case di fuga e piano piano nel tempo, diciamo nei primi 5, 3, 4, 5 anni di lavoro molto spontaneo, molto, come dire, basato molto sulla passione, sull'orgoglio di poter aiutare delle persone fragile, infragilite da questa brutta esperienza, si denotano però le linee strategiche su cui si formalizzeranno poi gli interventi più strutturati in quanto da questa spontaneità, diciamo di natura territoriale, si passa all'interlocuzione con le istituzioni e le istituzioni passato un po' di tempo, nel nostro caso della tratta, sono passati 4 o 5 anni, hanno preso in mano, diciamo, la questione e hanno iniziato a leggiferare. Questo processo, una volta leggiferato e come si ricorderà su Orrita, ma anche Pino, cioè tutte le riflessioni su come leggiferare, su come, come dire, consentire un intervento su tutto il territorio nazionale che potesse in qualche maniera corrispondere alle esigenze di protezione e dall'altro alle esigenze più di natura giudiziaria da parte, diciamo, dell'autorità di contrasto deputate sul versante appunto giudiziario. Queste due, diciamo, canalizzazioni sono state anche recepite dal legislatore. Tutti voi conoscete l'articolo 18 del testo unico 286 del 1998, scusate, l'articolo 18 del testo unico, scusate, ce n'era uno che era l'articolo 16 della legge 40, che prevedeva due percorsi. Questi due percorsi sono attualmente, come dire, quelli ufficiali, soltanto sono ancora quelli ufficiali, perché l'articolo 18 è ancora valido, è ancora il grande punto di riferimento per tutti i servizi antitratta. Cosa diceva all'epoca e dice ancora l'articolo 18 è che quando i servizi sociali, intendendoli nella loro accezione più ampia, quindi non solo i servizi pubblici ma anche quelli del privato sociale o anche servizi gestiti da volontari, entrano in contatto con una persona e questa, nel dialogo che si attiva con questa persona, si viene a conoscenza della sua condizione di vittima di grave sfruttamento. Oppure gli organi di polizia, allora quando nelle loro azioni di prevenzione del territorio intercettano delle persone e queste persone manifestano o i poliziotti, gli agenti di polizia capiscono che si tratta di una persona trafficata, possono, come dire, attivare quello che si chiama il percorso di protezione. Questi due canali è stata una grandissima rivoluzione all'epoca e lo l'è tuttora, anche se tuttora questo articolo 18, come vedremo, è un po' depotenziato, perché? Perché se aveva una sua validità, aveva una sua capacità di impatto piuttosto consistente negli anni in cui è stato varato, diciamo fino alla metà degli anni 2000, con appunto diciamo il passaggio agli anni successivi, l'articolo 18 è venuto piano piano a depotenziarsi. A mio avviso sono due le ragioni. Una strutturale del fenomeno, poiché ogni fenomeno sociale, quando le istituzioni, i gruppi sociali, i servizi attivano prestazioni di aiuto, coloro che gestiscono il fenomeno, ovvero i gruppi di sfruttamento, in questo caso i trafficanti, modificano necessariamente le loro performance organizzative e le loro modalità, diciamo, di sfruttamento. Perché? Perché le adattano modificandole con il modificarsi della capacità istituzionale o sociale di contrastare binarialmente il fenomeno, sia dal punto di vista giudiziario, sia dal punto di vista sociale. E quindi è una, come dire, è una rincorrersi tra le istituzioni e i servizi che aiutando le persone a uscire dallo sfruttamento costringono di fatto i trafficanti e gli sfruttatori a modificare le loro condotte delinquenziali, cercando di renderle sempre più mimetizzate al fine di non farsi intercettare dalla polizia. Quindi questo, diciamo, gioco, scusate se uso questo termine, non me ne viene un altro, che man mano che noi cresciamo nella definizione della strategia di protezione e di contrasto, le strutture criminali si modificano per sfuggire a questa intercettazione. E quindi si crea una dinamica, come dire, tra azione e reazione che continuamente si modifica. Cosa abbiamo capito noi in questi anni? Noi abbiamo capito intanto che il fenomeno va affrontato con una filiera di servizi, una filiera di servizi che, sempre per citare l'articolo 18 e l'evoluzione normativa che lo ha accompagnato, e anche l'istituzionalizzazione, diciamo, dell'incarico al Dipartimento delle Pari Opportunità per gestire i progetti antitratta. Questo, diciamo, istituzionalizzazione ha portato anche alla definizione, a partire dalle esperienze che concretamente si svolgono sul territorio, della filiera cosiddetta delle prestazioni antitratta. Iniziano con le unità di strada, quelle che ho sentito prima che fa anche questo vostro gruppo, che a mio avviso è il momento più importante di questo lavoro, perché l'unità di strada è quella che contatta direttamente le persone in strada, è il punto strategico più importante di tutta la filiera. Perché? Perché una volta entrato in contatto con questa persona, acquistandone la fiducia, fatto ormai fondamentale, perché senza la conquista della fiducia non si fa nulla, si prende in carico la persona, si gestisce, come dire, una fase, quello che viene chiamato il percorso, all'interno di residenze, di comunità residenziali, all'interno dei quali si lavora congiuntamente con la persona affinché possa trasformarsi, riacquistare la sua capacità di autodeterminazione, si insegna un lavoro laddove è possibile, è sforrita su questa un'esperienza molto lunga, molto importante, per preparare queste persone, diciamo, alla fuoriuscita dal servizio sociale. Quindi vedete che sono 4 o 5 fasi correlate una all'altra che nell'insieme determinano quella che chiamiamo filiera di protezione. Quante sono le persone invischiate in questo meccanismo perverso? Ovviamente non è una cosa semplice e non è facile, perché? Perché gli interventi istituzionali e guardate che il nostro intervento nonostante le contraddizioni, le carenze, diciamo l'articolo 18 ormai parzialmente depotenziato, rimane uno dei sistemi più efficaci che abbiamo a livello europeo. Perché? Perché gestisce circa 70-80 servizi sul territorio nazionale che producono ogni anno delle prese in carico di donne e minori in piccola parte che si aggirano intorno a 1.200-1.400 persone, di cui la metà circa sono persone, come dire, che erano nei servizi l'anno precedente e dai 700 ai 900 casi di nuovi ingressi, quindi di persone nuove che rappresentano sostanzialmente il flusso di ingresso nel fenomeno. Noi abbiamo studiato negli anni il flusso di ingresso e ne abbiamo appreso che diciamo tutto l'insieme di queste persone coinvolte nella prostituzione di strada si modifica. Ogni 3-4 anni diciamo che c'è una sorta di turnover nelle strade della maggior parte di queste ragazze. Cosa vuol dire? se noi ad esempio dividiamo in 20 anni, come a partire dal 2000 fino al 2020, noi abbiamo avuto, considerando questo indice, ogni 4-3-5 anni un cambiamento complessivo di queste ragazze in strada. Cosa ci dice questo turnover? Scusate che è una parola brutta, insomma viene un po' dall'economia, ma ci dà anche l'idea di quello che accade. Se nel 2000 ad esempio si stimavano sulle strade circa 25.000 persone, ragazze, di queste 25.000 al quinto anno almeno l'80% non era più quello precedente. Nel 2010 lo stesso cambiamento, quindi nel giro di 7-8 anni c'è un cambiamento totale. Inizia, come dire, c'è un cambiamento totale per cui alla fine del 2000 noi non abbiamo quasi più nessuna delle ragazze che erano in strada cinque anni fa e ovviamente cinque anni fa non avevamo più quelle che erano in strada a cavallo alla metà del 2000 e non erano più in strada quelle del 2005 e quelle del 2000. Scusate questo aspetto tecnico, però è molto importante perché questa cosa è quella che ci dà la speranza da una parte ma ci interroga anche su altre questioni più importanti dall'altra. Qual è la speranza? La speranza ormai abbiamo, come dire, razionalmente capito che c'è questo turnover. Quindi vuol dire che questo turnover è causato dal nostro impegno. Non è un turnover spontaneo, è un turnover che è l'effetto, il turnover è l'effetto del nostro lavoro giornaliero, del nostro impegno quotidiano nella formazione, nelle prestazioni che diamo a queste ragazze, anche nelle incomprensioni, nei litigi, nelle fughe che hanno queste ragazze depressione che prende agli operatori, il burnout di alcuni, sapete che è un lavoro stressante quindi alcuni abbandonano ma tutto questo coacervo di situazioni crea un impatto per cui si determina questo cambiamento a cui accennavo prima. Cosa vuol dire ancora? Vuol dire che però questo fenomeno si riproduce. Se ogni cinque anni cambiano le persone in strada vuol dire che la fonte originaria da cui arrivano non fa che riprodurre flussi di persone che tornano in strada. Alla fine del 2000 le stime erano un po' più alte. Oggi noi parliamo circa di 50.000 persone, comprese però circa 20.000, circa una parte che si prostituisce dentro le case, nelle case e agli appartamenti utilizzando gli annunci online di cui sappiamo molto poco. Quindi se oggi parlando della città di Roma e del Lazio ci sono due grandi reti che lavorano su queste cose c'è una rete della regione Lazio che si chiama rete antitratta finanziata dal Dipartimento delle varie opportunità e poi c'è il servizio Roxane finanziato da Roma Capitale. Nella città noi stimiamo circa, nel Lazio stimiamo circa 3.000 persone. Queste 3.000 persone hanno una doppia nazionalità, diciamo sono aggregabili in tre gruppi nazionali. Uno sono ragazze nigeriane, due sono ragazze rumene, tre c'è un gruppo diciamo con delle nazionalità miste tra cui una parte abbastanza rilevante di transessuali latinoamericani ma soprattutto brasiliani. c'è un fatto che le unità di strada, per questo è importantissimo questo lavoro, ci dicono che la maggior parte delle ragazze in strada, ovviamente stiamo parlando prima del Covid, poi ci soffermeremo un pochino su questi ultimi mesi. La maggior parte delle ragazze che si trovavano in strada e che le unità di contatto monitoravano erano moltissime donne rumene, diciamo che su 100 almeno 40 erano rumene e le nigeriane invece erano tipo il 20% mentre altre nazionalità nel loro insieme erano l'altro 30-40%. Quindi il fenomeno, al di là della percezione che noi ne abbiamo, che pensiamo sempre che sono ragazze nigeriane, non è così. A Roma il gruppo prevalente sono le donne rumene e in misura minore le bulgare, le moldave, le polacche mentre all'interno dei servizi, ovvero il servizio Roxane e i servizi della regione che sono servizi del terzo settore la preponderanza delle nazionalità che è all'interno del servizio è nigeriana, quindi noi abbiamo due polarità. Se guardiamo alla strada il gruppo principale sono le donne rumene, se noi leggiamo il fenomeno dal punto di vista delle utenze e dei servizi, il gruppo predominante di gran lunga sono le nigeriane. Allora io mi fermerei un attimo perché ho visto che ci sono delle chat, le nego un attimo, non so se ci sono delle domande. Allora qualcuno mi dice se ci sono delle slide, sì io ve le posso mandare, c'è un'altra chiedo scusa perché è un tema molto importante, l'esperienza di lavoro in Brasile. Non ci sono domande particolari. Ecco non ci sono domande, quindi continuo. Sì. Allora, quindi stavamo dicendo che se noi guardiamo il fenomeno dalla strada la predominanza sono donne nigeriane, se lo guardiamo dall'interno dei servizi la predominanza è nigeriana. Quante sono le utenze prese in carico? Quelle che ho studiato io l'inverno scorso è che il Comune di Roma tra le persone che prendono in carico diciamo dentro i servizi convenzionati con il Comune girano circa 150-200 persone. considerando un po' tutte le piccole reti che affiancano il servizio Roxane, perché il servizio Roxane bisogna vederlo un po' come un arcipelago dove c'è un polo centrale che è l'ufficio di via Merulana, ma poi ci sono tre unità di strada, quattro case residenziali, uno sportello e ci sono anche delle prese in carico in semi-autonomia. E nel corso diciamo del tempo le prese in carico che ha svolto Roma Capitale sono moltissime, perché sono quasi 150 diciamo di media all'anno e quindi sono moltissime. L'altro aspetto da sottolineare è che l'articolo 18 e la modificazione che ha avuto il fenomeno negli ultimi anni, dicevo prima, è diventato un po' obsoleto. Questo perché? Perché non tutti i gruppi nazionali, ad esempio quello rumeno, quello brasiliano e quello nigeriano che sono i maggiori hanno le stesse condotte, ovvero hanno gli stessi comportamenti o i gruppi criminali che sottendono le forme di sfruttamento, che gestiscono le forme di sfruttamento, hanno delle tradizioni diverse. Un conto è il trafficante nigeriano, un conto è il trafficante brasiliano, un conto è il trafficante romeno. Quindi ad esempio queste tre comunità su cui ho posto l'attenzione in questo libro che si chiama l'idea capovolte che accennavo prima, ci sono praticamente tre modelli che hanno dei caratteri diversi. Caratteri diversi vuol dire che sono diverse le modalità di ingresso nel fenomeno, nello sfruttamento, sono diverse le capacità di starci dentro e sono diverse le modalità di fuoriuscita. Quindi noi in quanto operatori dobbiamo capire quali sono i modelli, quali sono le caratteristiche peculiari di ciascun gruppo nazionale perché soltanto apprendendo le caratteristiche di ciascun gruppo nazionale noi siamo in grado di operare in maniera più efficace. Molto sinteticamente il gruppo nigeriano come molti di voi sanno, ma sorrita, scusa sorrita se ti cito sempre, ma sanno, è un percorso molto accidentato perché inizia quasi in maniera consensuale l'emigrazione. È in corso del viaggio che diventa, diciamo, i trafficanti si smascherano e cominciano appunto a chiedere soldi. C'è un patto che fanno con la Maman e le Maman le portano in Italia, le portano in Libia dove sono sfruttate, prendono la nave, vengono da noi che hanno già consumato esperienze drammatiche. Le ragazze rumene invece, anche per la vicinanza della Romania, hanno un percorso di arrivo in Italia molto diverso. Loro possono anche tornare a casa se vogliono fuggire, ad esempio, dai sfruttatori, possono chiedere aiuto ai loro fratelli, ai loro connazionali, cosa che succede anche tra le nigeriane, ma un po' meno un po' di meno. Mentre le brasiliane, le trans brasiliane, anch'esse sono sfruttate in una maniera molto dura, io direi che sulle brasiliane noi dovremmo fare un'attenzione particolare perché è il gruppo più soggetto a proprio la riduzione in schiavitù nella forma più, diciamo, più stretta, oggi è più calzante su di loro che non sulle ragazze nigeriane e molto meno ancora delle ragazze rumene. Io metterei come drammaticità delle situazioni i gruppi brasiliani di transessuali, secondariamente le donne nigeriane e in terza posizione, per così dire, le donne rumene. Ciò che caratterizza questi tre gruppi nazionali è lo sfruttamento, ma l'intensità dello sfruttamento è molto più forte tra le brasiliane, perché? Perché tra le brasiliane il fatto che hanno, diciamo, una doppia personalità maschile e femminile, le condizioni di sfruttamento sono molto più violente e molto più dure. Con le ragazze nigeriane noi sappiamo che c'è questo giuramento a cui loro pur di mantenerlo accettano lo sfruttamento sessuale e quindi la situazione è ovviamente grave, ma c'è una sorta di compensazione nella drammaticità che loro sperano che pagando il debito questo loro dramma, questa loro forma di schiavismo viene meno. Con le donne rumene c'è ancora di meno questa consapovolezza dello sfruttamento, perché è caratterizzato molto forte da un rapporto di innamoramento che queste donne hanno verso i loro sfruttatori. È qualcosa che razionalmente sembra quasi inconcepibile, ma il rapporto amoroso tra una donna rumena e il suo pseudo compagno marito è talmente forte che questa donna accetta anche di prostituirsi in condizioni di sfruttamento, anche grave, ma come una compensazione dell'innamoramento. L'innamoramento diventa compensativo dei sacrifici della, come dire, della traumaticità del rapporto e quindi questa compensazione gli fa pensare che prima o poi il rapporto diventerà un rapporto più normale, quindi lontano dallo sfruttamento sessuale. Perché? Perché i proventi dello sfruttamento sessuale vengono, la donna almeno crede, che siano un gruzzolo di denaro che servirà poi a creare un rapporto più normale, più duraduro con il suo amato. Mentre il suo amato lo è soltanto strumentalmente per un anno, due anni, tre anni, ma poi molto spesso scappa. Perché? Perché deve conquistare, tra virgolette, un'altra donna più giovane da sottoporre a sfruttamento e quindi acquisire ulteriori risorse economiche per il suo specifico beneficio. Questi tre modelli, la cosa che è una acquisizione recente di analisi, ad esempio molto interessante, almeno al mio avviso, è tra le similitudini che possono esserci tra il gruppo nigeriano, il gruppo rumeno e il gruppo transessuale brasiliano e le differenze. Le differenze è chiaro che sono evidenti perché abbiamo un gruppo africano, un gruppo europeo e un gruppo latinoamericano con i differenti saperi, le differenti consuetudini, la diversa concezione del proprio corpo, la diversa concezione anche di accettare condizionamenti amorosi finalizzati anche all'esercizio della prostituzione e le similitudini sono ovviamente più nascoste. Una è quella che comunque si tratta di persone sfruttate, di persone vulnerabili, ma sono vulnerabili perché sfruttate non sono vulnerabili in sé per sé, perché si tratta di persone in genere molto forti, ma la vulnerabilità, lo stato di bisogno nella quale vengono a trovarsi le rende soggette a dipendenze multidimensionali e pertanto di una fragilità estrema. Una similitudine tra i nigeriani e i brasiliani è la seguente. Noi sappiamo che i gruppi nigeriani provengono dalla zona, da due o tre paesi, due o tre stati, scusate, che si affacciano sul golfo di Guinea, soprattutto Edo State, che è uno stato, uno stato che negli ultimi 25 anni è stato molto popolato da migranti che provenivano e continuano a provenire dal sud-est della Nigeria, che è tutta la zona petrolifera, perché sono andati via da quella zona, perché come sapete è una zona con forti aria di inquinamento e quindi con delle campagne che non producono più frutti e quindi gruppi di persone sostanzialmente sono emigrati con un flusso continuo. Benin City, che è la capitale di Edo State, a metà degli anni 90 aveva circa 300.000 abitanti, oggi ne ha quasi 800.000 e c'è chi dice che ne ha un milione e due. Quindi è diventata una città oggi quasi come Napoli, mentre era una città molto piccola con 300-400.000 persone. Questo raddoppio nel giro di 25 anni, se voi calcolate, è un flusso enorme, quasi 50-100.000 persone ogni anno che arrivano dalle zone limitrofe. Perché vanno a Benin City? Perché Benin City ha una tradizione di produzione e di commercializzazione di prodotti molto, molto fiorente. È stata una delle città storiche del regno di Daomei, che è stato un grande impero fino alla metà del Settecento. Quindi quando parliamo di Benin City, di Edo State, non dobbiamo pensare soltanto alla povertà, ma dobbiamo pensare anche a un luogo di immigrazione e quindi di disorganizzazione sociale dovuta a un eccesso di immigrazione. Sono Yoruba e sono Benin, come dice il termine, e se noi approfondiamo la provenienza delle transessuali brasiliane, che vengono quasi tutte dal nord-est, quindi la zona appunto di San Salvador e le zone e gli stati limitrofi, hanno un'origine anch'essa africana del Golfo di Nguinea. Molte delle brasiliane che sono in Italia transessuali, hanno anch'essi un'origine Yoruba, soprattutto Yoruba, e quindi hanno anch'esse delle tradizioni, anche delle credenze religiose molto simili a quelle della Nigeria attuale, che come sapete è il Voodoo, mentre nel Brasile nord-est è il Condomblé, che è una sorta di Voodoo, no una sorta di Voodoo scusate, che è una forma di Voodoo che si è innestata in maniera sincretica con le tradizioni e le credenze che ha trovato in Brasile da parte dei nativi. Credenze che si sono, come dire, sincreticamente interconnesse e hanno prodotto questo il Condomblé. Ora, quello che succede è che anche le donne transessuali nigeriane vengono fatte giurare con le loro divinità e anche esse hanno riprodotto, soprattutto negli ultimi dieci anni, perché prima questo non emergeva dalle nostre considerazioni, dalle nostre riflessioni, che anche loro giurano per restituire un debito. Quindi noi abbiamo due modelli, quello brasiliano e quello nigeriano, che hanno questa forte similitudine. Sono persone credenti e possono essere allo stesso tempo, come voi sapete benissimo, possono credere a credenze diciamo tradizionali, ma possono anche essere cristiani, essere anche animisti e quindi molte di queste persone hanno, come dire, una cosmogonia che è rappresentata da più credenze. Quindi questo è anche una sfida che noi abbiamo, soprattutto i gruppi appunto cristiani, è una grande sfida di interlocuzione con queste persone che possono appunto avere cognitivamente dei modelli di credenze compresenti e quindi con una capacità diciamo di interlocuzione più complessa e su questo occorre veramente una grande capacità di ascolto. Sulle donne rumene la parte religiosa ha un impatto molto minore perché sono generazioni, come sapete, le donne rumene appartenevano a un regime che professava appunto l'ateismo e quindi sulle donne rumene l'aspetto religioso è meno presente. Ci sono ovviamente, molte di queste ragazze dicono di essere delle credenti e anche lì c'è una suddivisione tra cristiani ortodossi o altre diciamo tipo di credenze, ovviamente anche quella cristiana cattolica. Io non so, mi fermerei un attimo se ci sono delle domande perché sapevo che questo nostro incontro doveva durare un'orezza. Ci sono due domande. Non vorrei, come dire, continuare. Se ci sono domande possiamo... C'è la signora Simonetta che scrive, lei è un ispettore di polizia, oppure posso lasciare aperto il microfono a tutti così, così possono farle direttamente. È la cosa migliore? Sì. Intanto mentre si organizzano, leggo questa, dice se è possibile avere i dati dal servizio centrale operativo della direzione anticrimine per poter studiare meglio il fenomeno. Allora, scusa, rilego, allora diamo un'ultima chiedere informazioni da anni riguardo nel tempo che ci sono. Da questo momento ognuno può attivarsi il microfono e fare le domande direttamente. Professore, buonasera, sono Natalucci Simonetta, non so se mi vede. Mi vede? Spero di sì, vabbè, spero che almeno mi senta. Sì, ti sentiamo Simonetta. Ascolti, professore, intanto grazie. È stato veramente un onore ed è stato, sono onoratissima e sono molto felice di far parte di questo consesso e di questa conferenza. Ovviamente c'è molto da imparare da persone illustri come lei. Ecco, guardi, io avrei voluto studiare, 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 però come ho scritto, sono un ex ispettore superiore della Polizia di Stato in congetto in pensione e quindi che le dico? Le dico che tutto quello che lei sta raccontando è verità vera. Quindi fatti visti, situazioni tremende che dovevamo, avevo affrontato anch'io insieme ai miei colleghi, a volte con il cuore in mano che ci veniva da piangere, situazioni anche di donne che siamo dovute andare a prendere all'estero, quindi pregiudicate che erano fuggite dall'Italia ma poi sono state arrestate all'estero e quindi noi dovevamo andare a riprendere perché dovevano subire, dovevano avere un processo e quindi dovevano dare conto del reato consumato in Italia. Bene, quindi ecco, per dirle, se può essere utile, professore, sarebbe la direzione centrale Polizia di Minare, da dove ho fatto servizio, 27 anni, il resto ho lavorato nella Costura di Roma, questi dati si possono chiedere, loro li danno ovviamente tutto quello che è possibile, per avere il polso della situazione, per avere questo fenomeno come dilaga su Roma, su Roma, su Lazio, loro hanno il polso nazionale, ovviamente una direzione al polso nazionale, però se non interessa il territorio romano e anche il contorno dei paesi attorno a Roma, della provincia, si potrebbe, se volete, se volete, si può chiedere. No, se è possibile, volentieri, dottoressa, perché io... Ispettore, mi chiami Simonetta, la prego, io sì, sono laureata, per l'amor di Dio, ma io sono semplicemente Simonetta qui con voi e quindi sono molto rieta per essere utile. Grazie, no, possiamo risentirci se è possibile, questi dati, io so che è sempre difficile purtroppo e quindi è sempre una fatica. No, no, li danno, li danno, li danno, professore mi creda, li danno. È sempre una fatica, i dati che abbiamo usato per questo studio che ho fatto, per rispondere anche a un'altra domanda che dice se ci sono numeri sui consumatori, cioè quelli i cosiddetti consumatori finali o clienti. Consumatori seriali, sì, di tutte le età, di tutte le età, lei professore mi potrà illustrare meglio. Sì, soltanto che è una cosa difficilissima avere un'idea. Io ho fatto uno studio in questi ultimi mesi, scusate, ma è un po' il mio mestiere, abbiamo analizzato con un collega una ventina di siti per gli annunci per la prostituzione al chiuso e abbiamo, come dire, scoperto, ma è un dato però molto, cioè molto, come si dice, molto debole che riportano, cioè come organizzato questo fatto dell'annuncio, c'è una donna o una transessuale, mette l'annuncio su queste bacheche e poi quelle più importanti, diciamo, quelle più strutturate, hanno dei forum che sono delle comunità di clienti, diciamo, chiamiamole così, dove raccontano le loro esperienze. Però quello che abbiamo notato con questo collega è che il linguaggio utilizzato da queste persone è molto corretto. Perché? Perché se così non fosse la polizia, appunto, soprattutto quella postale, potrebbe chiudere il sito. Esatto. Quindi c'è un atteggiamento di correttezza linguistica impressionante. Poi ci sono delle cose gergali e un nostro collega che studia, un sociologo che studia anche il linguaggio, ci aveva detto che era un linguaggio che non apparteneva, in base alle sue conoscenze, a nessun stile, diciamo, subculturale della città, ma è un linguaggio che stavano inventando questi clienti. E sommando un po' tutte... perché per partecipare a questi forum bisogna iscriversi e quindi la somma di tutte queste iscrizioni che abbiamo fatto su circa 20 siti arrivava a circa 6.000 nominativi. Ora però questi siti, la loro, diciamo, debolezza, ma non potrebbe essere altrimenti, è che non cancellano i nomi. Perché? Perché più un sito è pieno di nomi e più quel numero alto di nomi fa prestigio al sito stesso. Quindi tendono a non cancellare. Quindi è molto probabile che queste 6.000 persone che noi abbiamo conteggiato siano molto di meno. Perché? Perché quel tipo di sito, se ha 50 nomi, ha un peso, diciamo, simbolico. Se ne ha 150, ne ha un altro. E se questi 150 del secondo sito, ce ne sono 20, 30, 40 di persone che si sono iscritte una volta ma poi non hanno più frequentato il sito, l'amministratore del sito ha convenienza a lasciarlo. Perché? Perché all'esterno lancia un messaggio di efficienza. Ecco, quindi questa cosa non ci ha permesso di considerare queste 6.000, diciamo, persone come persone, come teste, cioè come cape, come capi, scusate, come persone singole, ma più come numero di ingressi all'interno dei siti. Quindi il problema della stima che dice la signora è molto difficile, ecco, molto difficile. Scusate se... C'è una domanda, è riferita alla Romania, però possiamo estenderla anche ad altri paesi. Ci sono esperienze oppure che cosa si può fare per fermare la vulnerabilità nei paesi di provenienza? Cioè l'informazione, le campagne, c'è qualcosa che ha funzionato? Allora, guardate, su queste cose qui io all'inizio dicevo che c'è un affievolimento dell'efficienza, dell'efficacia, scusate, dell'articolo 18, che deriva da una inefficacia istituzionale. Cioè il Dipartimento delle Pari Opportunità negli ultimi 3-4 anni è molto debole. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è stato un cambiamento enorme nella strategia governativa contro la tratta di esseri umani. Non voglio apparire troppo severo, ma mi scuso, ma la vedo così. Mentre, diciamo, fino al 2010-2015 il Dipartimento aveva una sua forza, mentre a livello territoriale, a parte alcune città, i servizi erano deboli. Oggi è il contrario. C'è una rete di servizi, grazie ovviamente ai finanziamenti del Dipartimento delle Pari Opportunità, che si sono rafforzati in tutto il territorio nazionale, mentre il centro, ovvero la struttura del Dipartimento, si è indebolita. Ci sono soltanto tre persone. Quanto invece ne servirebbero almeno una decina per, come dire, interloquire con tutti questi servizi, che sono diventati molti e molti fanno un lavoro molto egregio. Per la Romania e per la Nigeria io ho proposto, dato che sono le due nazionalità con un numero maggiore di persone coinvolte nella tratta, che la nostra cooperazione allo sviluppo con il Dipartimento, con il Ministero dell'Interno, potessero, come dire, fare dei progetti forti con la Romania e con la Nigeria. La Nigeria basterebbe con lo Stato di Edo, quindi non la Nigeria è un paese gigantesco, come sapete, ma con lo Stato di Edo e con la Romania, che abbiamo qui a un migliaio di chilometri, in via d'aria sono molto di meno, di fare due programmi di lungo respiro. Perché? Perché quando parlavo del turnover il punto è proprio questo, ce ne possiamo anche lavorare molto con queste donne e guardate, vedendolo con distacco un po' da studioso, il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro mastodontico, è quel lavoro mastodontico che ha modificato il fenomeno, ma oggi noi lo dobbiamo rienterpretare sull'onda delle trasformazioni avvenute e se oggi sappiamo che i due gruppi maggiori sono quello rumeno e quello nigeriano, tutte le nostre forze dovrebbero, come dire, concentrarsi su questi due. È inutile parlare della tratta in senso generale, astratto, ci sono 150 gruppi invischiati, è anche vero, ma i due gruppi maggiormente problematici, perché hanno un tasso di ripetibilità maggiore, sono questi due. Quindi con la Romania occorrerebbe fare un programma pluriennale. Io ho avuto un'esperienza, perché dieci anni fa c'è stato un bellissimo progetto che è durato tre anni, con la Romania, con l'Agenzia Antidratta Rumena e il Dipartimento delle varie opportunità, dove furono furono fatti degli scambi, c'è stata la formazione di 700 operatori sociali rumeni che si sono incontrati con i nostri operatori sociali e è durato tre anni, ci sono stati seminari formativi enormi, anche alcune ricerche fatte insieme e l'apertura di case famiglia è avvenuta sempre in quegli anni, dopodiché c'è stato un deflusso dell'attenzione, fino agli ultimi anni, tre, quattro anni, dove questa disattenzione sta diventando molto pesante. Perché? Perché oltre alla tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale, quella di cui sarebbe molto lungo parlarne è anche lo sfruttamento lavorativo non solo nelle campagne, ma anche nell'edilizia, anche nei servizi alle persone e quindi anche lì si parla di situazioni di tratta a scopo di sfruttamento, quindi il e tra cui ci sono anche operai rumeni, soprattutto nell'edilizia, nei trasporti e in agricoltura. Quindi con la Romania occorrerebbe una grande, come dire, attenzione, un grande programma, diciamo di cooperazione sia giudiziaria che sociale e allo stesso tempo con la Nigeria, con lo Stato di Edo. Gruppi cattolici fanno un sacco di lavoro in quei territori, ma occorrerebbe portare, come dire, a sistema tutti gli interventi che si fanno e questo forse il salto che dovremmo fare oggi, portare a sistema tutti i piccoli interventi che la Caritas, ma molti gruppi, ma anche gruppi della Caritas tedesca, della Caritas di altri paesi fanno in Nigeria e ovviamente altri gruppi religiosi e quindi sarebbe, come dire, una cosa interessantissima poter, come dire, mettere insieme questi progetti e farlo diventare un progetto unico con tante anime all'interno, ma con una strategia comune e una strategia anche che comunica i risultati, che comunica le difficoltà, che comunica i punti di forza e di debolezza, perché se noi non impariamo ad analizzare i punti di debolezza e ci soffermiamo soltanto sui punti di forza, non facciamo nessun passo in avanti, è perché studiando i punti di debolezza di un intervento che si cresce, se noi facciamo soltanto, se ragioniamo sempre in termini di punti di forza, rischiamo di fare propaganda, mentre dobbiamo guardare oltre ai punti di forza quali sono i punti di debolezza, perché sono quelli che ci fanno avanzare nell'intervento. Quindi tutti questi gruppi della galassia, diciamo, cattolica, diciamo cristiana in generale, dovrebbero avere la possibilità di vedersi e di creare un progetto unico, un progetto coordinato, e questo anche con la Romania, questo potrebbe essere una cosa, come dire, su cui spendere energie e attenzioni. Un'altra domanda, ci avviamo alla conclusione, perché da due, anzi, è la stessa richiesta fatta da due differenti persone con esperienze diverse, cioè sui siti, ma anche in alcuni incontri che ci sono stati degli operatori, in alcune famiglie, sono stati trovati delle minorenni italiane che si prostituiscono per poter acquistare abbigliamento o cose del genere. Ecco, quanto è diffuso questo fenomeno a Roma? Allora, guardate, anche qua, io adesso, scusate se ripeto un po' questo studio che ho fatto, è il mio mestiere, cioè ho fatto anche una riflessione sui gruppi minori. Allora, anche qui, allora intanto noi dobbiamo storicizzare sempre il ragionamento che facciamo, perché? Perché minore è una condizione dell'età, che vuol dire? Vuol dire che se noi consideriamo 18 anni, l'età in cui si entra appunto nella maggiore età, minore che ha la possibilità anche di andare in strada, di prostituirsi o che viene portato più delle volte, in genere, dagli dati che abbiamo, hanno un'età sempre di 16-17 anni, diciamo è l'età centrale, quindi vuol dire che questa persona è esposta e viene sfruttata in età minorile per un anno, per due anni, perché poi passa la maggiore età e quindi scompare, tra virgolette, diciamo dalla visuale, dalla visuale diciamo minore età. e quindi quando questa persona passa ai 18-19 anni e quindi ha, come dire, ancora una permanenza nella prostituzione, è da considerare appunto una persona che non è più minorenne. Allora non dico questo perché se ha 18 anni e un giorno non ci interessa più, ma la categorizzazione di minore scompare dalle statistiche e quindi diventa molto difficile che quel minore noi lo individuiamo, lo intercettiamo in quanto minore. dal momento che diventa maggiorenne scompare dalla nostra visuale e quindi questo crea moltissime difficoltà a lavorare con i minori che si prostituiscono. Da questa recente riflessione che ho fatto intervistando molti operatori, ciò che emergeva è che oggi nella nostra città sono stimabili quasi 500-700 ragazzi minore di 18 anni che si, come dire, che oltre ai piccoli furti, oltre a inventarsi giornalmente di che vivere, fanno anche a volte accettano di prostituirsi e quindi sono, come dire, persone più, cioè da considerare come delle persone povere, dei minori poveri, che all'interno della loro azione di sussistenza compare anche la prostituzione. Questo sarebbe un grande intervento da fare sulla città di Roma perché ci sono dei gruppi molto bravi che ci lavorano ma anche loro stanno nelle condizioni, come dire, molto deboli dal punto di vista economico e finanziario perché queste cose qui, se non assumono una dimensione istituzionale, non resistono nel tempo. Noi ormai lo sappiamo, molti di voi lo sanno altrettanto, che un'azione così importante, il volontariato può dare un contributo ma non può essere il volontario che affronta tematiche di questa forza e di questa consistenza. Noi dovremmo avere la forza di, come dire, di sensibilizzare maggiormente le istituzioni su questo, scendere su un piano, diciamo, politico, tra virgolette, non nel senso partitico, ma politico come orientamento delle politiche in favore dei minori che tra le altre cose si prostituiscono. Io feci uno studio 15 anni fa e all'epoca c'erano dei gruppi che praticavano la prostituzione in senso stretto. Oggi le cose che mi hanno detto questi operatori che ho intervistato è che non c'è, non ci sono minori, ovviamente se non molto nascosti, molto sommersi, di cui non sappiamo nulla e non sapremo mai nulla, che invece non fanno più la prostituzione come fatto prevalente della sua modalità di sussistenza. Ma insieme alla prostituzione ci sono i piccoli furti, i raggiri, un po' di spaccio di droghe leggere, qualcuno spaccia un po' di droga pesante, fanno delle truffe. Ecco, questa mi ha molto colpito rispetto appunto a 10-15 anni fa, no una decina d'anni fa, che c'erano questi gruppi che stavano alla stazione Termini, si prostituivano, stavano a Villa Borghese, stavano a Ostia durante l'estate lungo le spiagge, i famosi cancelli. Ecco, oggi mi hanno detto che non ci sono, ma sono dei ragazzi che fanno più attività di sussistenza all'interno del quale praticano anche la prostituzione. Quindi per questo, dicevo, bisogna avere anche un po' un approccio storico, capire oggi chi sono questi minori rispetto a quello che erano 10 anni fa, perché molto spesso noi, come dire, ci astraiamo dal momento storico e siamo convinti che alcune nostre conoscenze sono invariabili. Mentre è importante appunto il monitoraggio, leggere i dati delle unità di strada, che sono quelle che vengono sempre criticate perché dicono che fanno queste unità di strada. è una cosa ormai quasi insopportabile, invece noi lo dobbiamo gridare a tutti che senza le unità di strada noi non capiremmo l'ingresso delle persone nel fenomeno. La loro attività di monitoraggio è preziosissima. Quello che fanno le unità di strada è un lavoro incomiabile, perché? Perché ci danno gli elementi per capire chi entra nel fenomeno, anno dopo anno. Questo è una cosa estremamente importante. Quindi periodicizzare vuol dire attenersi alle conoscenze che si hanno nel giro di due o tre anni, se parliamo di minori, mentre se parliamo di prostituzione dopo i 18 anni è chiaro la prospettiva un po' più ampia e rientra un po' in quello che dicevo poc'anzi, di cercare di capire e analizzare i turnover che avvengono dentro il fenomeno. E questo, per esempio, da questo studio emerge anche che la maggior parte delle ragazze nigeriane che stanno nei servizi di Roma Capitale e dei servizi antitratta della regione hanno un'esposizione al fenomeno di circa un anno e due mesi, un anno e tre mesi, le donne nigeriane, le transessuali un anno e mezzo circa e le donne rumene intorno a un anno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se un anno e due mesi è la media di circa tutti i casi che abbiamo analizzati ci dava un anno e due mesi, vuol dire che alcuni arrivano dentro il fenomeno ma escono dopo poche settimane, dopo un mese, dopo due mesi, altre invece rimangono fino a due anni e quindi ci danno una media di un anno e due. Quindi diciamo che l'esposizione all'interno del fenomeno oscilla da poche settimane fino a quasi due anni per dare una media di circa un anno. Questo è interessante questo dato perché ci fa pensare che appunto l'esercizio della prostituzione anche nelle forme più forti è qualcosa che interessa le persone con le loro fragilità e paradossalmente anche gli sfruttatori con le loro paure di essere intercettati con le loro paure di essere, come dire, non pagati dalle ragazze non li sto difendendo ma questo ci fa pensare a delle relazioni tra persone umane cioè tra persone con tutti i loro limiti quindi questo ci permette diciamo di essere molto concreti di non astrarre lo sfruttatore come una persona avulsa dalle paure, dai ripensamenti oppure dal fatto che la polizia li arresta e quindi magari quando vengono arrestati il lavoro che sfolgeva può finire o può essere preso da altri suoi sodali ma se finisce quelle donne che stavano con questa persona arrestata possono magari uscire dallo sfruttamento ecco non so se rendo l'idea che è un quacervo di relazioni che si incrociano che si accavallano ma il lavoro forte, il lavoro sociale deve essere il punto fermo che queste ragazze hanno e devono avere nella nostra città perché il punto fermo dei servizi è quello che prima o poi come dire, arriva alle orecchie di queste ragazze prima o poi si accorgono delle unità di strada prima o poi concepiscono la polizia come delle persone che possono essere disponibili e amicali mentre i loro sfruttatori gli dicono che la polizia è cattiva che se le arrestano vengono picchiate, violentate dalla polizia e quindi hanno una paura appena vedono la volante della polizia e invece con i comportamenti accoglienti con i comportamenti costruttivi queste cose piano piano possono affievolirsi e possono creare i presupposti per le fruscite Interrompo per l'ultima domanda anche se sono molte ma stiamo andando avanti Sì no mi scuso se non so se riesco a dare risposte Stanno dando molte, vedo più domande Una è tornare sull'articolo 18 che lei ha detto è stato depotenziato scrive Paola Attualmente l'articolo 18 così com'è che cosa offre e soprattutto se c'è una distinzione tra comunitari, extracomunitari che tipo di protezione dà che possibilità di integrazione Allora l'articolo 18 nasce una ventina di anni fa ma è basato su una visione che oggi non abbraccia diciamo la configurazione diciamo di tutte le ragazze che stanno in strada perché è basato sul principio della tratta di esseri umani e questo vuol dire che è un reato di natura transnazionale e presuppone sempre che ci sia una struttura criminale che dal luogo di origine di questa ragazza la porta per tappe successive fino nel nostro paese e poi la inserisce nel circuito della prostituzione questa visione oggi non c'è più perché la tratta può nascere una volta arrivata nel nostro paese quindi ormai molti operatori ragionano non solo operatori ma insomma anche studiosi anche giuristi con due concetti di tratta una tratta esterna che è quella un po' più classica diciamo i cui reati sono imputabili a condotte di natura transnazionale e la tratta interna che invece sono connessi a comportamenti delinquenziali che nascono direttamente nel nostro paese quindi siccome l'articolo 18 è una impiantato su questo tipo di reato perché presuppone la condizione di violenza di pericolo nella svincolarsi dall'assoggettamento della struttura criminale non so se è chiaro quindi questo concetto di pericolo basato sempre sulla struttura criminale ad esempio è molto difficile applicarlo al gruppo rumeno ma anche è molto difficile ormai applicarlo al gruppo nigeriano perché questa famosa mamman che la assoggetta molto spesso è una persona singola anche se dietro sappiamo che possono esserci dei gruppi criminali ma il fatto che lei interloquisce direttamente con la ragazza e la ragazza è dipendente anche psicologicamente socialmente da questa donna per il famoso impegno a restituire i soldi che gli ha prestato l'effetto diciamo criminale non è immediatamente ravvisabile e quindi molto spesso in fase di dibattimento processuale sia il lover boy della donna rumena sia la mamma o il boca che è l'uomo che la sfrutta perché c'è sia la mamma che questo boca è difficile incastrarli dal punto di vista giudiziario quindi andrebbe rivisto l'articolo 18 come dire con un'estensione e inserendo anche degli elementi che non sono rapportabili alla condizione criminale to court o al reato transnazionale ma rapportato a delle cose a dei reati che avvengono nel nostro paese e che quindi non c'è come dire l'obbligo della cooperazione giudiziaria ad esempio ovvero interpellare la polizia nigeriana che non risponde mai oppure risponde poche volte interpellare la polizia rumena ma cercare di costruire un asset di di regole di elementi che estendono quest'articolo 18 anche ad esempio allo sfruttamento lavorativo perché questo concetto di pericolo che è la caratteristica dell'articolo 18 ad esempio per i braccianti stranieri che vengono portati su un campo da un caporale non vengono portati in maniera violenta cioè non vengono rapiti e portati nel campo ci vanno di loro spontanea volontà ci vanno consensualmente e anche se questo consenso è dovuto allo stato di bisogno di necessità e quindi di dipendenza e vulnerabilità è difficilmente comprovabile in sede di dibattimento processuale e quindi la fanno franca quindi tutto questo diciamo dispositivo che su cui le persone riflettono giuristi a mio modesto punto di vista è fragile perché è basato su due o tre concetti che andrebbero come dire non dico superati ma vanno integrati da altri concetti che prevedono la possibilità di rendere il reato molto più praticabile e meno come dire complesso perché rimanda a condizioni di criminalità organizzata che non sempre stanno dietro a queste persone è una cosa molto tecnica scusate però non so se ho dato l'idea ci sono dei concetti nell'articolo 18 che sono non rispondono più diciamo all'identikit della persona sfruttata in questo momento storico cioè in questo periodo professore la ringraziamo prima di passare la parola a Don Ben per le conclusioni rispondo io a due domande che sono arrivate in chat allora chi è iscritto al corso l'iscrizione rimane quella non deve iscriversi per ogni incontro quindi manderemo noi il link dei prossimi incontri uno o due giorni prima che avvengono mentre è stata richiesta un attestato di partecipazione noi non lo avevamo previsto però se occorre un'attestazione di aver frequentato questo corso non ha alcun valore legale non c'è problema possiamo rilasciare anche quella quindi lascio la parola a Don Ben bene in realtà devo soltanto concludere nel senso che ci sono un po' di domande che sono rimaste in evase ma purtroppo il tempo è quello che è è volato grazie al professor Francesco Carchedi giustamente vi ricordo che noi avremo il prossimo appuntamento il 25 di gennaio alla stessa ora e faremo questa volta una lettura evangelica pastorale del fenomeno della tratta sarà con noi Sorrita Giarretta lo potremmo tradurre il prossimo incontro la chiesa che va in strada ecco sul perché il professor Francesco diceva anche poco fa se non ci sono le unità di strada noi non capiamo bene che cosa sta succedendo è uno dei pochissimi spazi dove agganciare le persone le ragazze con tutta la fatica e la diversità anche che ci ha descritto lui quindi ecco la prossima volta ci aiuterà Sorrita Don Giampiero non so se volevi ecco professore scusi una domanda prima che vada via io volevo domandarle lei parlava sobre campagne di sensibilizzazione e anche ha parlato dei minori voi avete un programma o si realizza qua in Lazio sensibilizzazione per le scuole licee i ragazzi perché come lei ha detto sono minorelle poi diventano maggiorenne e se non hanno questa conoscenza di queste cose possono essere attratte se realizza questo tipo di campagna fuori della chiesa intendo perché anche la chiesa lo fa però il municipio i comuni si preoccupano di dare questo tipo di campagna anche ai ragazzi dentro il liceo per esempio mia figlia sta al liceo sono due anni da io sono straniera e non ho sentito mai che fanno questo tipo di cose adesso è maggiorene però non ha conoscenza e sembra anche importante fare questo con i ragazzi guardi io quello che posso dirle è che conoscendo un po' come lavorano come lavora il servizio Roxane questa cosa nelle scuole le fanno soltanto le fanno su chiamata nel senso che per entrare nelle scuole non è semplice ci deve essere un professore che chiama l'ufficio e allora in quei casi c'è una disponibilità perché noi parliamo sempre delle scuole però le scuole non è semplice andarci insomma bisogna avere il permesso dal presidenza insomma io so perché l'ho fatto nel tempo anche a me è capitato molto spesso di fare perché però mi chiamavano ecco ci deve essere una chiamata una perché sennò è molto difficile cioè non è che uno va in una scuola e dice facciamo un corso o facciamo una lezione sulla sulla tratta di esseri umani e ci sono i professori che magari ne parlano tra di loro accennano e poi chiamano un esperto succede un po' così il servizio Roxane sono molto disponibili insomma se lei parlando con qualche professore della scuola di sua figlia può dire sentiamo l'ufficio Roxane che è del comune di Roma se possono venire qui a fare un incontro cioè loro fanno molta formazione anche a me spesso mi chiamano insomma però ecco quando si parla delle scuole anche qui bisogna avere sempre il contatto il contatto con gli insegnanti dentro insomma perché deve essere quando chiamano un esperto vuol dire che qualche professore ne ha parlato già con i studenti allora c'è questa necessità però così di punto in bianco andare in una scuola e fare un ragionamento come questo che stiamo facendo adesso noi non è semplice insomma non funziona così ecco Scusate la Croce ho messo anche su chat la Croce Rossa ha una convenzione con il Ministero di Pubblica Istruzione quasi automatica non c'è bisogno di chiedere il permesso a nessuno se il dirigente scolastico lo chiede noi andiamo appunto se il dirigente scolastico lo chiede è una convenzione della nostra azione sul territorio la Croce Rossa fa un'azione sociale sul territorio quindi se viene conosciuta a me capita per altri campi di essere chiamata dalle scuole di andare per la prevenzione e l'educazione sanitaria stiamo dicendo la stessa cosa signora benissimo guardate allora credo che questo sia uno anche degli obiettivi di questo corso vedete come anche attraverso le riflessioni le domande le osservazioni che sono arrivate nella chat verifichiamo quante persone di voi che partecipate a questo a questo gruppo siete come si dice a Roma sul pezzo siete inseriti all'interno di questo tipo di riflessione di lavoro di sensibilizzazione ad esempio venerdì prossimo avremo un incontro ce l'avrò anch'io con gli insegnanti di religione delle scuole superiori e sicuramente avevamo già deciso di farci portavoce di queste tematiche proprio perché ci sia la possibilità ognuno per le possibilità che ha ovviamente di poter contattare i ragazzi allora queste riflessioni queste osservazioni anche queste domande che sono rimaste in sospeso noi le custodiamo in modo tale da poter utilizzarle anche per gli incontri successivi c'è stato un errore di comunicazione se non sbaglio non so se a livello di sito della diocesi sembrava che gli incontri fossero solo quattro invece come aveste visto dal calendario sono otto quindi abbiamo la possibilità di riprendere con cura le domande che non abbiamo espresso adesso e riformularle attraverso le persone che parleranno intanto ringraziamo moltissimo il professor Carchetti avevo promesso che avremmo concluso con una preghiera la preghiera dedicata a Santa Bachita Santa Bachita come saperla è una schiava liberata affrancata diventata suora e che diventa un po' la protettrice delle vittime della tratta ecco perché negli orientamenti pastorali del di Castero per lo sviluppo integrale della Santa Sede dedicato al tema della tratta negli orientamenti pastorali si fa si mette alla fine questa preghiera Padre Onnipotente ti ringraziamo per l'esempio di Santa Giuseppina Bachita Santa Giuseppina Bachita ti hanno ridotto in schiavitù da bambina ti hanno venduta e comprata ti hanno trattato con brutalità intercedi ti imploriamo per tutti quelli che sono prigionieri della tratta e della schiavitù affinché gli aguzzini restituiscano loro la libertà e questo male sia cancellato dalla faccia della terra Santa Giuseppina Bachita quando ti è stata ridata la libertà non hai permesso alle tribolazioni patite di definire la tua vita hai scelto invece la via della bontà e della generosità aiuta quanti sono accecati dalla virità e dalla lussuria e calpestano i diritti umani e la dignità dei loro fratelli e sorelli a spezzare le catene dell'odio a ritrovare la propria umanità a imitare la tua bontà e generosità o Dio d'amore fa risplendere su questo mondo afflitto la luce della tua misericordia fa che rompa dove le tenebre sono più fitte porta la salvezza agli innocenti che patiscono violazioni e abusi converti i malvagi che li opprimono e li tengono prigionieri dona tutta a noi la forza di crescere nella vera libertà dell'amore per te per il prossimo e per la nostra casa comune Amen Grazie a tutti